Dai, voglio sempre il tempismo No No È schivato No Se non si sta concentrati qua, è fighita è È veramente impestato sto gioco Pensavo fosse simile a Dark Souls sto gioco, cioè se non stai concentrato al massimo No No C'è un'altra vite, lui c'ha ancora quelle tre vite, come quattro ne ha No Dai Di bastante, di bastante No Se non stai... Se non ci metti un attimo, toggetti la vita Impestato C'è un attimo No 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 Sì Sì Ce l'ho fatta, prendi il tempismo No Malissimo No Oh, ce l'ho fatta Sì No Sì, ce l'ho fatta No 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 Per niente è facile Proprio niente è facile Proprio niente è facile C'è una volta Ha la faccia delle dinamiche da... Delle meccaniche da Dammaku, eh C'è Tutto sto spam a schermo No 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 Tene volte... Ma dai Sì Sì Ce l'ho fatta No No Uh... È sempre più difficile Proprio avanti È più difficile Sempre questa storia che i boss Invece che in deboli si diventano sempre più forti Sempre più forti Ma com'è possibile? No Oh Mamma mia Uh... 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 No No Oh no 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 Die Sì Ok, ma ne dobbiamo rimanere in l'epoca ormai Cos'è? Questa roba No Ma come cavolo? No, ma è una roba assurda Ma cos'è sta cosa? No No Tutto ciò non ha senso Come si fa? Come? Come? Ce l'ho fatta Incredibile No, no, no No, no, perso Perché? 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 No Non di nuovo No Ma sta cosa è impestatissima C'è solo un giappo ce la può fare Per prendere danno C'è dai, no, eh Ma sì, su sta cosa No, no, no No Troppo difficile Troppo Troppo difficile Ma come si fa? C'è, no No, veramente No C'è, no Sì, forse ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta, non ci posso credere Non ce l'ho fatta 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 Però sembra carino Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta